Ciao a tutti da Al Salutatore, grandissima sorpresa, mi trovo con un grandissimo Sandro Tovaglieri, Ercobra, grande. Ciao. Senti, allora vogliamo fare un saluto a tutti quanti i tuoi fans e i tifosi della Roma. Io li saluto con grande affetto, grande amore perché la scuola per cuore sarà anche l'ultima e quindi gli faccio veramente un grande saluto affettuoso. Speriamo che domenica, mi sembra che c'è il tempo, sarà una partita amichevole per noi, vinceremo a zero. Va bene, Dzeko e Tocchio, c'è il capitano, pronostico. Se c'è il capitano bisogna il capitano, però siccome non gioca, però potrebbe entrare, non si sa mai, il capitano ha 20 minuti e ancora gli ha a fare. Eh, vi fa pure bene. È bello pure. Salutiamo anche Francesco Totti, allora. Sì, il capitano è sempre. Ciao Francesco. E poi nell'occasione faccio pure gli auguri di Natale. Certo. Non c'è l'occasione. Certo. Quindi un saluto a tutti i tifosi della Roma e buon Natale e buon anno a tutti. Ecco, io ti ringrazio, ricordiamo sul web dove ti trovano, su internet, sui social. Mi trovano un po' dappertutto, su internet, su Twitter, su Facebook, su tutto. Quindi c'è il mio profilo, mi possono scrivere tranquillamente, poi farò anche la presentazione del mio paese. Diciamo quando e dove. Il 10 dicembre, per te, all'anno 18, la sala consigliere sono partita. Allora, ricordiamo il giorno, io ti ringrazio, allora ho anche una sorpresa per te, la manina del salutatore. Ecco qua. Salutiamo e ricordiamo che hai vinto il premio Sette Colli organizzato da Fabrizio Pacifici. È un grande onore essere qui, veramente. È un premio molto gusto. E anche per noi tifosi della Roma e del tifo in generale dello sport, perché ci vuole sempre anche il fair play. Quella è la cosa principale, fondamentale. Grazie. Un saluto. Ciao. Ciao.